scientificast il podcast più amato dei coralli e la puntata 384 ben trovati e bentrovate a tutti cari amici di scientificast ai microfoni con voi ci sono Andrea e Giuliano ed è subito la solita battuta che facciamo ogni volta che siamo io e te ma non stavo dando la facciata la lasciamo implicita tanto ormai lo sanno tutti che cosa stiamo pensando e tutti stanno pensando alla stessa cosa cioè un gatto rosso esatto gli ascoltatori lo sanno io mi ricordo delle tutte le prese in giro che ho subito da bambino sono molto contento che ormai quel cartone animato sia morto e sepolto perché insomma tutti quelli che si chiamano Giuliano adesso finalmente sono liberi anche se devo dire che non è un nome molto comune vero adesso comunque devi stare un po all'occhio perché tutte le cose degli anni 80 stanno tornando tremendamente dici che vedremo una seconda serie di attori veri che fanno quella famigerata serie a parte del fatto che ho visto un video di Mirko Ibi Hive con sopra la musica di Zitti e Buoni l'ho visto anche io è vero è una roba che mi ha tolto veramente il fiato però vabbè in senso positivo peraltro è questo che mi ha preoccupato il fatto che mi sembrasse una cosa bella e quindi insomma non essere così sicuro che sia tutto nel dimenticatoio va bene speriamo io incrocio però le dita per tutti i giuliani del mondo e anche per tutti gli andrea e i giuliani che fanno cose insieme va bene a proposito di cose insieme iniziamo a fare questo episodio a portare avanti un po l'episodio 384 giusto 384 accidenti siamo quasi al 400 è uno sputo ormai dal 4 ma non lo dire che poi ci tocca fare una puntata speciale non sappiamo bene come farla dobbiamo rimandare dobbiamo fare la puntata 399 e mezzo la live l'abbiamo fatta quella malinconica dell'episodio l'abbiamo fatta per dieci anni non so quali altre alternative ci sono rimaste di cose la dobbiamo fare in presenza no? e non si può e beh adesso non si può proprio quando arriveremo magari alla 400 o siamo tutti in lockdown allora oppure la facciamo dal vivo tipo in presenza in un teatro però ci vuole un teatro gigante cioè a San Siro a San Siro allo stadio figata mamma mia scientifica allo stadio lo riempiamo in due ore come Pink Floyd va bene mentre io apro la pagina su Eventbrite e Epic Cricket per il podcast 400 di Scientificast iniziamo l'episodio questo episodio parleremo di un'orgia di coralli poi vi racconterò qualcosa nel dettaglio via di loro esatto ma parleremo anche di tempo e su scala quantistica diciamo e so già che capirò molto poco di quello che Andrea ci andrà a raccontare ma sono abbastanza fiducioso e poi l'intervento esterno Andrea ricordami che abbiamo abbiamo Anna Anna che intervista Giulio Gabrielli che parla di psicofisiologia e analisi di segnali cerebrali oltre ad un po' di altre cosette ma poi lo diciamo meglio quando sarà il momento perfetto e allora direi che possiamo andare ad iniziare l'episodio 384 caro Andre per questo episodio ho deciso di parlare di una cosa che è abbastanza di attualità perché è successa pochissimi giorni fa il 24 di novembre è una cosa proprio fresca fresca sì sì fresca fresca noi stiamo registrando il 28 quindi quattro giorni fa è successa questa cosa bellissima nei mari australiani dove c'è la grande barriera corallina che ricordiamo è una barriera corallina grandissima infatti l'hanno chiamata grande apposta di circa 300 mila e rotti 350 mila quasi chilometri quadrati quindi una roba più dell'italia come il Giappone enorme enorme sono 2300 chilometri di estensione quindi una super barrierona che si vede anche dallo spazio che tra l'altro questo diamo anche un dato per gli economisti all'ascolto ci porta non a noi ma gli australiani circa 3,9 miliardi di dollari all'anno come reddito tutto l'indotto turismo o di pesca diciamo che prevalentemente per l'attrazione come attrazione turistica quindi per il turismo che crea la presenza della grande barriera corallina in australia che è una roba davvero pazzesca io ci sono stato devo dire sono stato in un piccolo l'ultimo piccolo pezzo di barriera corallina a Lady Elliot Island che è un posto fighissimo e nella mia innocenza pensavo che dalla costa ci volesse un attimo ad arrivare alla grande barriera corallina me l'aspettavo quasi che ci potevi andare con l'imbarcazione a remi magari no in realtà o un battello in realtà ci si sposta in aereo spesso volentieri perché è lontana comunque dalla costa e quindi si va con dei piccoli aerei privati che sconsiglio a chi ha paura di volare vivamente grandi come un fiorino con le ali esatto aerei da sei quindi spettacolo per atterrare su quest'isola comunque questo non è legato all'avvenimento che c'è stato perché quattro giorni fa c'è stato un quello che avviene più o meno ogni anno ma quest'anno è avvenuto di più e meglio cioè il lo spawning di tutti i coralli della barriera corallina in pratica c'è un giorno una notte nell'anno in cui comincia il periodo di diciamo emissione delle uova del dei coralli del della grande barriera corallina contemporaneamente c'è l'emissione del degli spermatozoi della barriera corallina quindi praticamente è una grandissima orgia di coralli che viene fatta al di fuori ovviamente del dei loro corpi non è una roba particolarmente diciamo pruriginoso no l'accoppiamento dei coralli e del fine sono questi organismi che emettono i propri gameti fuori e poi questi si incontrano e fanno una piccola larvettina che poi si va a depositare sul fondo e forma una nuova colonia però è un evento ovviamente fondamentale ed è una cosa la cosa interessante di questo evento che succede una volta l'anno e poi si protrae per alcuni giorni circa una settimana che avviene solamente in alcune condizioni specifiche non sia mai una data precisa perché devono esserci queste congiunzioni tra le vari fattori ambientali sicuramente la temperatura che deve rimanere circa 25 gradi e mezzo o di più o sopra per circa un mese quindi vuol dire che deve esserci un clima abbastanza stabile il mare deve essere abbastanza calmo non ci devono essere grossi eventi di marea perché sennò c'è troppo movimento e si va a disperdere diciamo tutto tutti questi gameti si perdono esatto quindi in qualche modo non la natura ha selezionato questo meccanismo proprio per evitare la dispersione di gameti e poi deve essere dopo una luna piena e questo è un quindi ovviamente ha un collegamento anche con i cicli lunari e la cosa incredibile che tutti i coralli di diverse specie e quest'anno i ricercatori hanno notato che più specie del solito hanno emesso i propri gameti emettono contemporaneamente quindi il mare diventa praticamente lattiginoso praticamente è come vedere delle nubi delle delle nebbie che emergono da dal fondo del mare e ricoprono tutta la superficie andrea stai per dire qualcosa ti vedo no ci sono sì perché ci sono quelle 112 domande che mi stanno venendo una è già il fatto che tu mi dici ci sono tante specie di coralli io siamo abituati a pensare che sono praticamente dei sassi con delle bestioline che qualche maniera ricostruiscono piano piano però non avrei immaginato che ci fossero tante specie di questi si chiamano polipi giusto esatto cioè il polipo è la parte vivente del corallo no sempre da non confondere col polpo col polpo lo sappiamo che ogni volta che qualcuno confonde il polpo con il polipo un biologo marino nel mondo muore a terra stecchito quindi bisogna stare molto attenti a fare questa distinzione quindi sì il polipo è la parte vivente sono di diverse forme dimensioni e si producono questa casa i tentacolini spero più sì però a seconda delle specie possono avere tentacoli più lunghi più corti più piatti più larghi più una qualche somiglianza col polpo c'è nel senso solo perché hanno delle cose che sono cilindri anche tu hai delle cose cilindriche che ti escono dal corpo ma non assomiglia un polpo mi spiacerebbe per certi versi animali intelligentissimi e super fighi quindi tutto sommato un po di invidia ce l'ho nei loro confronti no comunque ovviamente sono una roba totalmente diversa ormai gli ascoltori di scientificas spero che l'aviano imparato anzi vi invito a mandare dei commenti dicendo sì io lo sapevo sì io lo sapevo per dimostrare che avete seguito in questi anni scientifica sti modi efficaci e sì e poi comunque è vero che ne esistono una varietà ampissima ci sono coralli che sia come polipi ma anche come conformazioni calcare esterne sono completamente diversi a conforme c'è il corallo cervello per dire che ha una forma che sembrano proprio sembra riprodurre un po le le ansie cerebrali non nella forma ci sono non so adesso sono venuti in mente coralli a ventaglio coralli ci sono veramente tante forme tante varietà di coralli e la cosa bella è che si mettono d'accordo per emettere uova e sperma tutti nello stesso momento lo stesso giorno frey ancora una mezza dozzina di domande ma ne scelgo alcune una è ok se però non si verificano le condizioni opportune che cosa succede non lo fa saltano un anno teoricamente sì poi di solito il periodo si sposta più o meno in avanti però uno dei problemi è proprio quello che il cambiamento climatico le condizioni particolari che cambiano nel tempo possono portare anche a una diminuzione di di spawning di alcune specie infatti questo evento è particolarmente importante volevo parlarne proprio perché è stato un evento di massa come non si vedeva da un po di tempo anche perché la barriera corellina australiana la grande barriera ha subito due grandi fenomeni di sbiancamento negli ultimi anni uno recente nel 2020 e un altro nel 2015 16 in cui moltissime colonie sono morte proprio per un cambiamento delle temperature un cambiamento delle condizioni ambientali che hanno portato a lo sbiancamento del corallo cioè alla fine la morte quando il corallo sbianca e perché le alghe simbionti che gli permettono di formare queste grandi concrezioni calcare che si chiamano zoxantelle muoiono che sono loro che danno spesso il colore e anche brillante ai coralli muoiono morendo loro muore anche il corallo che non riesce più a a sostentarsi e quindi alla fine sbianca tutto quanto e buonanotte a secchio come si dice un'altra curiosità che avrei è questa sono diciamo sono animali che appunto apparterranno immagino a specie con una certa qual affinità tra di loro cioè si sono tante specie diverse però non saranno come diciamo una gallina e un coniglio no certo certo quanto e si possono formare anche degli ibridi sì allora è una bella domanda andre anche perché la natura ha selezionato anche diciamo una strategia per evitare che si possano formare degli ibridi non completamente diciamo di successo infatti alcune specie si sono evolute per non emettere i gameti nello stesso momento di altre specie ma con un ritardo di giorni o ore comunque proprio per evitare la formazione di ibridi che poi non non vadano a buon fine c'è una relazione viene studiato ovviamente sono reti molto complesse tra gruppi diversi ma potenzialmente interfecondi che però potrebbero dare origine a una una prole non non buona non fertile che si sono evoluti per spawnare si dice il termine tecnico quindi per emettere i gameti in in tempi diversi e questo perché appunto pensavo questo fatto che lo fanno più o meno tutti insieme se sono sufficientemente simili è la prima cosa che viene in mente esatto che possano accidenti e questo diciamo potrebbe essere una coincidenza secondo te e secondo chi l'ha studiato ovviamente oppure potrebbe essere il segnale che in qualche modo qualcosa sta evolvendo per una volta in una direzione positiva ma allora secondo me è ancora ovviamente impossibile da dire una cosa di questo tipo sicuramente è un buon segno che la grande variera corallina comunque reagisce e continua e continuerà ad esserci ancora per un po' nonostante le fatiche e poi c'è un'altra cosa che ci dà anche una speranza in più che questa emissione così di massa ha permesso a un gruppo di ricerca che guidato da Garrett Phillips che ha guidato un po' la spedizione allo studio di questo di questo spawning di massa ha incominciato a raccogliere diverse larve di specie che non avevano mai neanche avuto perché di solito non spaunavano quindi avendo raccolto grandi quantità di larve di gameti di corallo possono testare in laboratorio la riproduzione per poi il successivo inserimento di specie che magari solitamente non si riproducono più o comunque si riproducono meno e quindi questo evento qui potrebbe essere poi anche quella toppa che tu riesci a mettere in futuro per introdurre delle specie che magari stanno scomparendo quindi è per capirne meglio il ciclo vitale quindi è un avvenimento positivo un colpaccio esatto un colpaccio hai pescato veramente le carte buone di mano e sei fortunato esatto a me ha fatto ridere la dichiarazione che ha fatto questo Phillips che ha dichiarato la stampa in Australia che ha osservato il più grande evento sessuale al mondo effettivamente ora non so cioè sono organismi molto piccoli immagino perché la come si chiama se tu immagini un pezzo di corallo non ci sono i buchi nel corallo che tu vedi quindi insomma immagino che queste colonie siano fatte di animali estremamente piccoli e per fare 350.000 km quadrati di barriera corallina ce ne deve essere un numero abbastanza sterminato se tutti insieme decidono che hanno un attimino di... si immagina si parla di trilioni cioè si parla di numeri che noi non riusciamo neanche a quantificare di emissione di uova infatti è un fumo non è non vedi uova vedi vedi una marea di una corrente di uova e di spermatozoi è una roba abbastanza incredibile in effetti ma il mare lo dico sempre che cioè il mare è grande e complicato è pieno di cose misteriose lo diceva anche il grande poeta Morgan se non esistessero i pesci riusciresti a immaginarli vero giusto e i pesci ancora ancora ma ci sono cose che sono molto più complesse molto molto più lontane dalla nostra diciamo percezione quotidiana non so come dirlo meglio beh effettivamente anche un evento di questo tipo diciamo è difficile immaginarlo no? che ci sia una specie comunque un gruppo di specie che appartengono allo stesso gruppo sistematico che decidono di riprodursi tutto tutti nello stesso momento e tutti contemporaneamente così in modo veramente maschivandosi il giusto per per evitare problemi cioè è davvero qualcosa di di notevole ho detto io già facevo sono molto ignorante di queste cose e già il fatto che siano tante specie diverse che come posso dire convivono per creare un ambiente così straordinario è già è già qualcosa di di notevole in realtà non lo so ma correggimi se sbaglio credo che nei fondali soprattutto nei fondali bassi le simbiosi tra specie diverse siano forse ancora più rilevanti nel costruire un ecosistema che non a terra cioè mi dà l'impressione che ci sia tantissimo interscambio tra specie diverse anche molto diverse giusto piante animali per 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 fare in modo che il sistema funzioni correttamente assolutamente la l'ecologia in mare e il rapporto fra le specie può essere davvero complesso perché lavora su piani che in terra non sono neanche applicabili cioè uno stesso organismo può avere su di sé un piccolo diciamo ecosistema che si regge da solo e lui è solo il substrato che magari cammina questa cosa qua non può non non è applicabile sulla terra diciamo molto bene direi che allora il momento abbiamo già un po annunciato ma di passare la parola alla nostra Anna che ha intervistato Giulio Gabrielli lui si occupa di psicofisiologia analisi dei segnali cerebrali ma oltre a questo ci parleranno anche dell'importanza della citizen science presentandoci una piattaforma online dove si può partecipare per raccogliere dati in diversi progetti che fanno anche cose abbastanza eterogene come gli animali della savana o riconoscimento di canti delle balene ciao a tutti io sono Anna e oggi sono qui con Giulio Gabrielli uno studente di dottorato della Nanyang Technological University a Singapore che si occupa di psicologia e di neuroscienze con un particolare focus sul signal processing quindi sul processamento del segnale ciao Giulio grazie per essere qui con noi oggi ciao Anna benvenuto e dunque dato che Giulio si occupa di signal processing e di come applicare l'analisi del segnale a psicologia, neuroscienze, scienze cognitive oggi gli ho chiesto di essere qui con noi perché vorrei che ci spiegasse come funziona una tecnica piuttosto recente, una tecnica sperimentale piuttosto recente di cui lui si è occupato molto dunque la tecnica si chiama, l'acronimo è FNIRS e quindi cominciamo subito a chiedergli le cose interessanti Giulio che cos'è l'EFNIRS e perché è utile, cosa ci possiamo misurare? l'EFNIRS sta per Functional Near Infrared Spectroscopy ed è una tecnica che permette di studiare l'attività cerebrale a differenza di altre tecniche di neuroimaging utilizzando la luce ha una serie di vantaggi rispetto alla risonanza magnetica o le EG in quanto è meno suscettibile a artefatti dovuti al movimento quindi si possono studiare partecipanti che stanno facendo dei compiti in cui si muovono liberamente o che interagiscono l'uno con l'altro ed è portatile quindi ci permette di studiare sia comportamenti in cui i partecipanti sono in un laboratorio ma anche all'esterno per esempio mentre camminano per strada o mentre interagiscono all'esterno di un laboratorio la tecnica si basa principalmente sull'assorbimento della luce da parte del sangue nel cervello quindi l'emoglobina ossigenata o non ossigenata assorbe la luce in maniera diversa il setup comprende due tipi di elettrodi un elettrodo che emette luce e un elettrodo che legge luce sostanzialmente semplificando molto e quello che succede è che leggendo la differenza di assorbimento tra la luce in ingresso e la luce in uscita dallo scalpo possiamo capire l'area del cervello che è più attiva in un determinato momento e quanto più attiva è rispetto a una condizione di baseline non rispetto ad altre aree del cervello quindi il motivo per cui possiamo fare questa inferenza è tipo quello dell'emarai quindi noi diciamo che pensiamo l'inferenza è che dove il cervello è più attivo va più sangue e di conseguenza questa tecnica con la luce ci permette di capire dove è andato più sangue e anche distinguere i tessuti il principio di funzionamento è molto simile alla risonanza magnetica la differenza sta nella lettura nella risonanza magnetica usiamo un campo magnetico per leggere il magnetismo e l'assorbimento del sangue nelle diverse aree con le FNIRS leggiamo la rifrazione o l'assorbimento della luce ok quindi è sicuramente molto utile perché ci permette quindi di misurare cosa fa il cervello anche in condizioni in cui altri metodi di analisi non funzionano quindi appunto ad esempio movimento come hai detto tu però quando si arriva a parlare dell'analisi del segnale resta complicata giusto? quindi quali sono un po' i problemi quali tipi di analisi invece quei problemi ci sono nell'analisi del segnale FNIRS che si trovano o non si trovano anche in altri metodi? allora ci sono una serie di problemi relativi alla tecnologia stessa nel senso che la tecnologia funziona per un principio basato sulla luce sostanzialmente noi mettiamo degli elettrodi in una sorta di cappello o di cuffia sulla testa del partecipante e il partecipante è libero di muoversi mentre noi registriamo l'attività ovviamente sorgenti di luce esterna hanno un'influenza su questo segnale che noi registriamo quindi un primo problema è avere o una luce consistente o riuscire a isolare completamente gli elettrodi dalla luce esterna ci sono diversi modi per farlo il problema di fondo è che una volta che io copro gli elettrodi per isolare la luce non vedo più la posizione degli elettrodi quindi se per sbaglio gli elettrodi sono stati mossi o se non erano dei saldi e quindi il partecipante muovendosi sposta l'elettrodo leggermente crea dei movimenti o crea degli artefatti nel segnale o delle alterazioni nel segnale un secondo problema è che studiando l'attività del sangue è molto forte la componente cardiaca quindi il battito cardiaco si riflette nel segnale e crea dei picchi che alterano a intervalli abbastanza regolari la nostra registrazione questo però tra l'altro è vero anche per tutte le analisi del segnale cerebrale giusto perché anche nelle EG si vede comunque il potenziale che deriva dal battito cardiaco nelle MRAE abbiamo lo stesso identico problema ovviamente però sì, nella NIRS come si gestisce? nella NIRS il problema è leggermente più complesso perché rispetto alle EG è molto più visibile sostanzialmente parte dell'analisi stessa poi del segnale viene basata su questa componente cardiaca perché è un punto di riferimento che possiamo sfruttare ha una doppia funzionalità che può essere sia un problema che una soluzione perché possiamo effettivamente misurare verificare che la misurazione sia corretta ci sono poi artefatti dovuti alla sudorazione del partecipante perché ovviamente uno scalpo su cui dell'acqua è presente assorbe la luce in maniera diversa rispetto ad altre rispetto a un momento in cui l'elettrodo posa direttamente sulla superficie della testa e passa attraverso lo scalpo è vero, non ci avevo mai pensato sì, e il cap che si usa, la cuffia che si usa comunque di tessuto quindi non si adatta proprio perfettamente alla struttura dei capelli quindi capelli più folti alterano leggermente la forma del cap e quindi la distanza tra l'elettrodo e lo scalpo diciamo che il problema fondamentale che si ha all'inizio è che questa tecnologia è stata sviluppata in Germania principalmente e quindi è stata testata su persone caucasiche con dei capelli relativamente chiari e fini e nel momento in cui viene testata su partecipanti di altre etnie è difficile riuscire a riprodurre gli stessi risultati soprattutto se i capelli sono più scuri o di spessore più grosso l'importanza di testare i metodi su un sample rappresentativo della popolazione fantastico, bellissimo però una cosa che a me ha affascinato tantissimo del tuo lavoro è il fatto che hai sviluppato una piattaforma per riuscire a automatizzare in un certo senso come si può dire la detezione che è bruttissimo il riconoscimento di questi artefatti nel segnale quindi tu sei sviluppato un algoritmo di machine learning che però andava allenato e per farlo hai sviluppato una piattaforma online diciamo che il problema di fondo è che essendo la tecnologia nuova tutti i metodi che si trovano adesso in letteratura sono delle prove sostanzialmente si sta cercando di analizzare il segnale e mano a mano che la tecnologia evolve che vengono sviluppati nuovi componenti sulle nuove versioni delle strumentazioni si cercano nuovi algoritmi o nuovi metodi per analizzare il segnale il problema di fondo è che ci sono pochi esperti e pochi dataset pubblici quindi pochi modi per verificare se il segnale che stiamo guardando è buono o cattivo per chi viene dall'elettroencefalogramma, dall'EG solitamente abituato a vedere un segnale con degli spike uno spike molto accentuato significa che qualcosa sta succedendo e quello è un segnale buono un segnale che viene utilizzato al contrario se ci sono tanti picchi a distanza molto ravvicinata un segnale rumoroso si vede a vista d'occhio nella NIRS è sostanzialmente l'opposto perché non dobbiamo tecnicamente vedere degli spike ma dovremmo vedere delle curve che vanno sopra e sotto la baseline sembra come un movimento sinusoidale ok e la baseline scusa per i nostri ascoltatori è fondamentalmente la misura a riposo potremmo dire cioè senza che il partecipante faccia nulla queste curve dovrebbero più o meno seguire l'attività cardiaca quindi più le curve sono accentuate maggiore dovrebbe essere l'attività adesso lo sto semplificando perché ovviamente ci sono una serie di fattori che entrano in gioco differenze tra i diversi partecipanti però in generale questo è quello che dovremmo osservare il problema appunto è che essendoci pochi esperti nel campo poche persone che hanno lavorato con la strumentazione pochi dataset pubblici non abbiamo modo di allenare i nostri modelli di machine learning su dei segnali che già sappiamo che sono stati etichettati come buoni o cattivi quindi l'idea di questa piattaforma web nasce dall'esigenza di avere dei segnali catalogati che possono poi essere utilizzati per allenare dei modelli di machine learning o dei modelli neurali quello che abbiamo fatto io e gli altri del mio team è stato prima sviluppare questa piattaforma e poi selezionare dei segmenti di segnale sia buoni che cattivi presi in maniera casuale da delle registrazioni che avevamo fatto in precedenza quello che abbiamo fatto è una piattaforma in cui i vari partecipanti i vari utenti possono loggarsi hanno un loro account in cui viene chiesto in maniera anonima di giudicare la propria esperienza con il segnale NIRS quindi avevamo sia persone che non avevano mai visto un segnale NIRS prima sia persone che avevano lavorato magari già su 3, 4, 10 studi diversi e quindi avevano un'expertise maggiore rispetto al segnale ognuno di questi utenti logati alla piattaforma gli veniva chiesto sostanzialmente di valutare un segnale scelto in maniera casuale tra questo dataset di segnali che noi abbiamo selezionato e doveva indicare se il segnale era usabile per delle analisi se il segnale presentava degli artefatti o se il segnale era da scartare perché la qualità era scadente quello che abbiamo fatto finora era un pilot quindi abbiamo un numero limitato di utenti abbiamo un brodi di expertise che copre sia utenti non esperti che utenti esperti abbiamo cercato di valutare come la diversa expertise e i diversi rating possano poi essere utilizzati per valutare i segnali in maniera automatica ma prima di chiedere ai partecipanti di fare questo avete anche messo un training cioè gli fate vedere degli esempi oppure semplicemente questo era di base solo per vedere quanto sarebbe reliable cioè quanto sarebbe affidabile un partecipante diciamo non esperto inizialmente quando si registravano alla piattaforma vedevano un esempio di segnale buono un esempio di segnale cattivo e un esempio di segnale che presentava degli artefatti gli venivano inoltre forniti dei link a dei paper su cui c'erano delle figure più o meno esplicative di come un buon segnale dovrebbe apparire o delle immagini in cui venivano evidenziati diversi tipi di artefatto quindi avevano un'idea di base magari per i partecipanti più esperti questo era superfluo per i partecipanti più principianti questo era troppo poco però l'idea era appunto valutare anche la reliability dei partecipanti meno esperti di come poter sfruttare persone che non fanno parte dell'ambito scientifico che non si occupano di affinirse quindi quello che viene in giargo definito citizen science e vedere come il loro contributo possa aiutare la ricerca scientifica e l'automatizzazione di questi processi di selezione dei segnali è fantastico e tra l'altro io personalmente trovo l'idea della citizen science veramente affascinante perché per chi non lo sapesse quello che ha appena descritto Giulio è come ha detto lui stesso un esempio di citizen science cioè un approccio che prevede che tutti i cittadini chiunque aiuti e partecipi alla raccolta dati ad esempio o appunto alla classificazione di dati già raccolti quindi all'analisi successiva certo ci sono dei contro nel senso che bisogna fare tutto un setup è necessario creare le piattaforme online magari piuttosto che creare il training come ha detto anche Giulio decidere in che modo spiegare ai citizen scientists fondamentalmente come usare come classificare i dati però permette di raccogliere tantissimi dati molti più dati di quelli che si potrebbero raccogliere se fosse soltanto il singolo scienziato a lavorarci ad esempio e un esempio favoloso di questo di questo approccio si chiama è un progetto che si chiama Zooniverse e a quale anche io sono affiliata io stessa e fondamentalmente Zooniverse ha una piattaforma online dove ci sono tantissimi progetti diversi caricati da diversi laboratori attorno al mondo e ogni partecipante a Zooniverse può semplicemente creare un account e partecipare a nessuno uno tutti i progetti che sono disponibili e così facendo partecipando facendo magari classificando una singola immagine piuttosto che un suono in un altro progetto si dà una mano a effettivamente riuscire a raccogliere tantissimi dati che poi possono essere usati per sviluppare di più delle ricerche degli altri progetti io ad esempio ho partecipato a uno che ha un progetto sempre su Zooniverse che chiedeva di classificare i suoni dei canti delle balene quindi c'era una registrazione fatta con i microfoni in acqua e prima c'era un training che ti diceva come riconoscere questi segnali e tu andavi e cominciavi a dire davi la tua opinione e dicevi anche in questo caso quanto eri esperto o non esperto in questo caso nel mio completo principiante oppure un altro in cui chiedono una mano a classificare animali nella savana perché loro mettono le phototrap quindi c'è una macchina fotografia che si attiva quando sente il movimento e scatta delle foto e solo che appunto poi qualcuno deve andare e decidere se in quella foto c'è davvero un animale che animale è eccetera e si può partecipare in questo modo io ho fatto una decina di suoni in un progetto e una ventina di immagini nell'altro e è sufficiente già da una mano tantissimo come anche Giulio immagino può testimoniare con la sua piattaforma sì adesso ne abbiamo finito il pilota con dei partecipanti un numero limitato di partecipanti abbiamo cercato di capire come i diversi le diverse expertise possono essere sfruttate il prossimo passo sarà estendere la piattaforma e cercare di raccogliere dati da molte più persone in modo da avere un maggior numero di rating che possiamo poi sfruttare per creare modelli sempre più accurati e per diventare più bravi anche analizzare il segnale NIRS e a capire più in fretta come fare è bellissimo quindi Giulio grazie tantissimo perché è veramente affascinante grazie anche a tutti gli ascoltatori e mi raccomando andate diventate citizen scientist anche voi alla prossima Giulio grazie di essere stato qui con noi grazie a te e ciao a tutti ciao bentornati in studio grazie Anna grazie anche al nostro ospite abbiamo come sempre imparato qualcosa di nuovo e purtroppo temo che siamo arrivati al momento che io non aspetto mai con troppa ansia fai bene a temere caro Andre temi temi però anche perché non me l'hai fatta sentire prima quindi sono qua che attendo no esatto ma questa volta possiamo tranquillamente scaricare la responsabilità perché ce l'hanno suggerita quindi hai capito cioè non è colpa nostra nel caso ma il peccato originale di qualcun altro ma se noi lo diffondiamo non è che siamo esenti da come beh noi lo diffondiamo per dovere di cronaca mettiamola così attendo con ansia allora tanto vi faccio appunto diamo subito il nome del peccatore diamolo dopo diamolo dopo dai diamolo dopo allora e tra l'altro questo questa barza si lega molto con l'argomento di cui abbiamo parlato prima dei coralli del loro accoppiamento perché vale anche per i coralli quindi la farò in versione anche corallesca perché non c'è niente da vedere nel sesso medusale o tra coralli perché è amore planktonico però no dai è meglio della media in effetti bisogna dire si vede che c'è lo zampino di un ascoltatore e non abbiamo fatto tutto in casa perché effettivamente a me ha fatto molto ridere adesso facciamo questa piccola postilla per chi si fosse perso le puntate precedenti ovviamente amore planktonico perché si accoppiano all'interno del plankton si lasciano trasportare dalla corrente e si accoppiano durante il loro ed è subito pensare a Paolo e Francesca nell'inferno di Dante trascinati dal vento della passione ecco anche quello forse era un un amore planktonico penso un po' Dante quanta ne sapeva comunque l'autore di questa delizia è David Attesboro che è un nostro affezionato ascoltatore che su Twitter ha commentato un episodio in cui avevo parlato appunto dell'amore medusale con questa battuta e io ho detto subito la useremo come Barza sappilo quindi era avvertito di questo era avvertito questo sì così diciamo la gente si anche responsabilizza mettiamola così esatto esatto ero subito responsabilizzato a proposito di responsabilità adesso giustamente cercherò di raccontarvi una cosa che in realtà è abbastanza complessa e per far questo prima devo fare un piccolissimo inciso cioè vi parlerò del tempo che è proprio una cosa tipica per noi anziani se è fatto freddo ma l'altro tempo il tempo che passa che è l'altra cosa tipica degli anziani cioè ma sai come passa il tempo come non passa quello più difficile da capire come passa il tempo è una domanda di non semplicissima soluzione esiste un libro che secondo me è un capolavoro assoluto si chiama science beyond the point of usefulness qualcosa tipo la scienza semplificata oltre il punto dell'utilità e che parla di alcune forme diciamo di alcune di alcune scienze è un libro molto breve si trova abbastanza facilmente e ovviamente parte dalla fisica dico ovviamente perché c'è una gerarchia che tutti riconoscono o quasi ma su questo io non dirò niente perché se no finiamo l'episodio tra 6 ore e 40 allora la fisica dice Aristotele ha detto un sacco di cose che erano sbagliate Galileo e Newton le hanno aggiustate poi Einstein ha di nuovo rotto tutto ora sostanzialmente abbiamo tutto più o meno che funziona tranne le cose piccole le cose grandi le cose calde le cose fredde le cose veloci le cose pesanti le cose scure la turbolenza e il concetto di tempo perché il concetto di tempo che pure dovrebbe essere una cosa che in qualche maniera tutti abbiamo in testa o meglio abbiamo una nostra idea del tempo ma se ci dovessero chiedere di spiegare a voce cos'è il tempo a parole cos'è il tempo per noi sarebbe una cosa estremamente complicata tu cosa diresti? io non lo so guarda io sul tempo non avrei idea è un parametro una convenzione che noi usiamo per stabilire ciò che avviene la sequenza la sequenza il fatto che due cose siano contemporanee una prima una dopo la sequenza degli avvenimenti che ci sono nel nostro mondo ecco già abbiamo un po' di problemini perché questa cosa qua del prima e del dopo va un po' a farsi benedire con la meccanica quantistica e quell'altra cosa del due cose contemporanee va un po' a farsi benedire con la relatività quindi abbiamo un po' di diciamo di difficoltà nel poi andare a vedere quando andiamo nel piccolo il tempo è davvero una cosa complicata da spiegare e effettivamente una cosa secondo me affascinante delle leggi della fisica è che sostanzialmente tutte le leggi della fisica sono indipendenti dalla direzione del tempo cioè se noi prendiamo la caduta di un oggetto che cade un oggetto che si muove soggetto alla gravità vicino alla terra l'altezza la distanza dal suolo potrebbe essere sempre descritta da un'equazione del tipo y0 più v0 y per t meno un mezzo gt quadro ovvero sia ti interessa la posizione iniziale l'altezza iniziale la velocità iniziale verso l'alto e poi l'accelerazione di gravità se noi ribaltiamo l'equazione cioè cambiamo il tempo con meno il tempo non cambia niente perché sia sempre cioè invece di descrivere il moto dall'istante iniziale all'istante finale descriviamo il moto dall'istante finale all'istante iniziale con la stessa identica equazione è sempre un oggetto che parte sparato verso ad esempio un oggetto sparato verso l'alto parte sparato verso l'alto decelera e poi cade accelerando però non vorrei aprire un ginepraio in cui poi non so come districcarmi esatto però l'accelerazione di gravità è comunque un'accelerazione che dipende dal tempo anche no l'accelerazione di gravità beh in prossimità della terra no l'accelerazione di gravità è costante costante nel tempo e nello spazio in prima approssimazione non cambia molto però il fatto che appaia come gt quadro t quadro anche se cambi il segno al tempo è uguale cioè se tu inverti il segno del tempo t al quadrato resta uguale e quindi alla fine questo è un esempio molto diciamo molto immediato del fatto che se io sostituisco la variabile tempo con la variabile meno tempo ho delle equazioni che descrivono esattamente la stessa realtà a cui siamo abituati questo con pochissime eccezioni alcune eccezioni sono nella fisica subnucleare le interazioni deboli ci sono alcuni fenomeni che hanno una piccola deviazione dalla perfetta come posso dire simmetria per inversione temporale questo ha delle conseguenze non del tutto trascurabili tipo l'esistenza di massa di materia nell'universo che senza questa cosa qua probabilmente non ci sarebbe ma a parte queste trascurabili inizie sostanzialmente è più una questione legata a differenze tra materia e antimateria e come si comportano nel tempo che non qualcosa di fondamentale cioè noi potremmo tranquillamente immaginare un universo in cui il tempo viaggia nella direzione opposta dal punto di vista di interazione debole ci sarebbe stato uno squilibrio verso quella che noi chiamiamo antimateria in favore di quella invece che in favore della materia ma sostanzialmente l'universo sarebbe molto simile o potrebbe essere estremamente simile come lo vediamo anche se ci sono queste piccole asimmetrie c'è però una cosa una legge molto fondamentale della fisica che invece ci dà la direzione del tempo cioè il tempo va sempre nella stessa direzione come coordinata è anomala perché io nello spazio posso camminare avanti e indietro come mi pare salire scendere andare in tutte le direzioni e tornare indietro il tempo va sempre avanti avanti perché non lo sappiamo avanti in quale direzione c'è una sola legge della fisica molto fondamentale che ci dice in che direzione va il tempo che è la seconda legge della termodinamica che ci dice che il tempo va nella direzione in cui l'entropia aumenta quindi diciamo tenere in ordine la propria scrivania in realtà è sostanzialmente posso testimoniare a favore non vale proprio la pena di fare questo sforzo perché tanto il disordine aumenterà comunque questo vuol dire sostanzialmente che la direzione del tempo o meglio esiste una freccia del tempo Hawking la chiamava freccia del tempo termodinamica proprio perché è solo la termodinamica che ci dice in che direzione va il tempo questa cosa è abbastanza come posso dire per certi versi è fastidiosa nel senso che rompe una simmetria perfetta nei fisici abbiamo un po' il baco mentale delle cose che più sono simmetriche più ci piacciono questa cosa qua è come posso dire una seccatura dal punto di vista della 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 perfetta simmetria delle leggi fisiche che però in qualche maniera è esattamente come funziona l'universo cioè l'universo noi lo vediamo che appunto va nella direzione dell'aumento dell'entropia questa questa questione questa questa condizione è verificata ogni qual volta andiamo a osservare l'evoluzione nel tempo di un sistema nel suo complesso cioè una una sottoparte di un sistema può vedere la sua entropia diminuire se noi prendiamo una bottiglia d'acqua calda e la mettiamo nel frigorifero tolto che lo sconsigliano per un sacco di altri motivi l'entropia dell'acqua calda non si mette mai la roba così hanno voluto dire sempre comunque c'è anche acqua temperatura ambiente la mettiamo in frigo l'acqua si raffredda e l'entropia dell'acqua diminuisce raffreddandosi perché l'entropia anche a livello microscopico è legata agli stati accessibili del sistema più il sistema ha energia interna quindi più la temperatura è alta più possibilità di ridistribuire questa energia e quindi più stati accessibili e quindi più grande l'entropia se io lo raffreddo mantenendo la stessa massa in un recipiente chiuso eccetera eccetera diminuisco la sua entropia ma per raffreddarla faccio fare un lavoro al frigorifero stesso questo lavoro fatto dal frigorifero che è il ciclo frigorifero la pompa il compressore e tutto quanto brucia energia e converte trasferisce calore da una sorgente fredda a una sorgente calda quindi ha bisogno di energia per poterlo fare e aumenta l'entropia dell'universo nel suo complesso l'aumento di entropia del sistema frigorifero più aria con cui scambia calore è più grande della diminuzione dell'entropia dell'acqua nel frigo quindi diciamo complessivamente l'entropia aumenta sempre 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 lo diceva anche decrescenza tu giri tu metti lo zucchero nel caffè io sì io sì e lo giri lo giro e non dovresti girarlo perché perché girandolo acceleri la fine dell'universo ma non si scioglie se lo giro e lo aspetti un ottimo si scioglie da solo non diceva decrescenza quindi il tempo ha tutta questa serie di caratteristiche che lo rendono una grandezza anche molto difficile da descrivere nel senso che come dicevo se dovessi definire che cos'è il tempo è una serie delle etichette che noi mettiamo a una variabile che ha una serie di caratteristiche uniche nel senso che va solo in una direzione noi vediamo una fetta delle istantanee in realtà non del tempo ma dello spazio-tempo perché lo sappiamo che lo spazio e il tempo sono collegati in modo molto molto intimo ciò nonostante appunto le coordinate di tipo spaziale quelle di tipo temporale si comportano in modo molto diverso noi le percepiamo in modo estremamente diverso e ha quest'altra caratteristica di andare sempre avanti nella direzione del tempo termodinamico ora quello che è stato diciamo è stato pubblicato uno studio su communication physics su Nature qui diciamo su una rivista che dovrebbe essere estremamente diciamo tra le più serie del mondo quindi una cosa super controllata prima di poter essere pubblicata è stato pubblicato l'altro ieri ancora più recente uno studio sul fatto che a livello quantistico ci possono essere degli fenomeni che coinvolgono singole particelle singole particelle subatomico cose di questo tipo quindi sistemi fisici estremamente piccoli estremamente con energie molto limitate in cui in realtà non sempre anche se noi consideriamo un sistema a chiuso se è sufficientemente piccolo ci possono essere anche dei fenomeni in cui l'entropia diminuisce cioè non è così vero che il tempo vada sempre avanti a livello quantistico ci possono essere anche dei casi in cui sostanzialmente si osservano dei fenomeni estremamente su sistemi estremamente piccoli in cui in realtà durante l'evoluzione di un fenomeno quantistico è difficile definire con esattezza cosa fanno le grandezze perché c'è il principio di determinazione quindi noi finché non facciamo una misura non sappiamo com'è lo stato finale ci sono tutta una serie di fenomeni che sono stati descritti in questo articolo sono tutte cose piuttosto intricate che riguardano appunto sistemi diciamo singola particella o cose di questo tipo in cui l'evoluzione del sistema procede come sovrapposizione coerente di uno stato in cui l'entropia aumenta e uno stato in cui l'entropia diminuisce e poi soltanto alla fine del processo lo stato collassa su uno dei due stati in cui l'entropia è aumentata o diminuita quindi diventa impossibile a quel livello anche questa come posso dire anche questa definizione che abbiamo del tempo che va avanti come il tempo che procede nella direzione in cui l'entropia aumenta sempre io vi avevo un po' accennato del fatto che se vi vado a vedere nella meccanica quantistica ci sono dei fenomeni in cui sempre a causa del principio di determinazione se l'energia in gioco è abbastanza piccola il fatto che due fenomeni avvengano uno prima uno dopo uno dopo uno prima non cambia niente per la natura perché l'indeterminazione sull'energia moltiplicata per l'indeterminazione sul tempo se è più piccola della costante di Planck il prima e il dopo perdono significato questa cosa fa sì ad esempio che il sole stia acceso anche questa non è esattamente una quisquilia se vogliamo e consente infatti a due protoni di farsi ci sono due protoni che si incontrano un protone e un neutrone si legano insieme e un protone uno dei due protoni diventa un neutrone è come se succedessero un quest'ordine sbagliato perché l'energia non c'è per farlo succedere nell'ordine giusto cioè si incontrano un protone diventa neutrone e poi i protoni e i neutrone si legano però di fatto visto che l'energia che serve per fare questo gioco è piccola e il tempo per cui serve è piccolo uno dei due protoni dice vabbè ma io prendo l'energia dal vuoto in prestito per una frazione di secondo molto piccola divento un neutrone cosa che non posso fare perché sono troppo leggero ma lo faccio perché appunto rubo l'energia dal vuoto mi lego con l'altro protone e a quel punto restituisco più energia di quella che ho preso in prestito quindi il prima e il dopo perdono di significato perde di significato la simultaneità con la relatività perché due eventi sono simultanei e si avvengono lo stesso istante ma non è possibile definire lo stesso istante per due sistemi di riferimento che si muovono rispetto all'altro perché in quel caso ciò che si conserva non è il tempo ma è la velocità della luce quindi il tempo misurato da me che vedo Giuliano che si sta muovendo io guardo il mio orologio guardo il suo orologio vedo il suo orologio che cammina più piano e più lui cammina veloce più il suo orologio le lancette si muovono lentamente quindi non nel senso che il suo orologio in qualche maniera viene influenzato ma proprio il suo tempo scorre più lentamente quindi lo vedo invecchiare più lentamente vedo fare tutto più lentamente se lui fosse un muone vedo che la sua vita media non è più due milionesimi di secondo ma diventa magari secondi quindi diciamo la questi effetti sono effetti che sono misurabili sono visibili e ci dicono ci fanno cadere tutta una serie di come posso dire di schemi mentali a cui siamo abituati quando descriviamo il tempo quindi la simultaneità non ha molto senso il prima e il dopo non hanno troppo senso se noi andiamo in prossimità di un buco nero probabilmente sull'orizzonte degli eventi il tempo dovrebbe sostanzialmente fermarsi quindi anche il fatto che il tempo si muova sempre eccetera eccetera non è del tutto vero basta essere voglio dire se sei a fianco a una persona estremamente pesante il tempo scorre più lentamente il buco nero è molto molto pesante questo succede anche nella realtà dei fatti senza bisogna di senza andare a vedere mostri e infine a quello che appare da questi da questo nuovo studio che comunque uno studio insomma piuttosto complesso piuttosto come posso dire particolare anche come argomento di discussione anche il concetto di presenza cioè passato e futuro o direzione in cui il tempo scorre non è esattamente definito come siamo abituati a pensarlo e quindi insomma la meccanica quantistica che spesso viene chiamata in causa per descrivere fenomeni più o meno esoterici dall'equazione dell'amore in giù in realtà anche se noi la studiamo col massimo del rigore cioè senza lasciarci prendere da queste cose un po' poetiche ci riserva delle sorprese incredibili cioè il fatto che il tempo a livello quantistico per determinati in determinati casi possa decidere di andare all'indietro è qualcosa di secondo me estremamente come posso dire è quasi sconcertante se vogliamo cioè l'unico avevamo un'unica di tutte le certezze più o meno che avevamo sul tempo che pensavamo di aver capito sul tempo il fatto che il tempo scorresse sempre nella stessa direzione rallentando 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 in determinate situazioni ma sostanzialmente potesse scorrere solo in una direzione la meccanica quantistica potrebbe toglierci anche questa anche questo questo mattone di certezza che avevamo su come il tempo funziona quindi vi è più veritiera la dicitura di questo fantastico librino che il concetto del tempo non ce l'abbiamo ancora del tutto chiaro no esatto speravo che in qualche modo tu facessi luce sul sul mio concetto di tempo ma se è possibile adesso ne ho una visione molto più complessa e molto più nebulosa ma credo che sia una cosa che succede proprio quando si va a approfondire un aspetto particolare come quello di un parametro come il tempo ma guarda il tempo te l'ho detto è davvero una cosa estremamente complessa da descrivere cioè se uno dovesse definire a parole che cos'è il tempo e sarebbe sarebbe estremamente complesso tu sei un fan del Doctor Who ne ho visto un po' però non mi definirei un fan sono un grande fan della colonna sonora molto bella è vero io ho visto le prime otto nove stagioni adesso non so se sono la decima o l'undicesima un po' perso un po' perso di vista negli ultimi due tre anni e lì viene sempre ma abbastanza spesso affrontato il concetto di tempo e il dottore nelle sue diverse forme non si stanca mai di dire che noi esseri umani non abbiamo idea di cosa sia il tempo invece loro che sono dei time lord dei signori del tempo hanno tutta una visione completamente diversa della fine e dell'inizio del tempo che sono dei concetti poi ovviamente la serie ha un sacco di contraddizioni e strane cose che capitano però è tipico della filmografia che balzella in giro per il tempo assolutamente sì ti dico solo una parola sulla colonna sonora che è bellissima ed è un esempio straordinario di musica elettronica dei primordi nel senso che è stata fatta è stata è stata creata diciamo per la prima per la prima serie da una ragazza molto giovane Delia Derbyshire una grandissima esponente della musica elettronica che non solo ha fatto questa cosa ma l'ha fatta come come posso dire imparaticcio nel senso che lei era era in prova alla BBC e la BBC ha detto potresti provare a buttare giù qualcosa per questa nuova serie su cui stiamo lavorando lei è andata a casa ha buttato giù qualcosa quando è tornata a a mostrare a far ascoltare quello che diciamo quello che aveva quello che aveva prodotto e ha detto ok va bene va bene così assunta a posto non si può migliorare non male non male un asteggista praticamente praticamente sei un asteggista grande e poi tra l'altro anche nelle versioni poi più moderne del Doctor Who e sono state tutte rielaborazioni dello stesso tema peraltro si già quello in realtà era una specie di cover già quella nel senso che c'era un pezzo precedente da cui si aveva preso ispirazione però era stata ha avuto proprio un successo straordinario e lei era un personaggio straordinario della musica elettronica per chiunque sia appassionato è un nome che sicuramente risuona bene Andre direi che a proposito di tempo il nostro tempo è abbondantemente oltre passato sì esatto oltre quello che avremmo dovuto fare quindi come al solito siamo andati un po' lunghi però io credo speriamo di aver detto qualcosa di carino sì speriamo di avervi un po' incuriosito e interessato su alcuni aspetti un po' sui coralli un po' sul tempo un po' sulla psicologia un po' sulle barze brutte insomma un po' su tutto quello che si è si affronta su Delia Derbyshire esatto esatto direi che è l'ora di lasciare i contatti sì ci trovate come al solito sui social maggiori quindi twitter facebook instagram scientificast chicast a seconda delle piattaforme ci trovate attraverso il contatto della posta elettronica info at scientificast punto it ci trovate sul gruppo telegram che è sempre molto attivo abbiamo quasi mille membri e si parla molto di molte cose se vi fanno impressione gli animali piccoli con tante zampe forse non è un posto del tutto safe altrimenti siete nel vostro e quindi insomma se ci iscrivete ci date una mano nel senso che non soltanto per le barze brutte come oggi Giuliano ma molto spesso sono i vostri suggerimenti che in qualche maniera ci fanno da spunto per andare a incuriosirci prima di tutto noi stessi per insomma imparare qualcosa di nuovo e provare a chiacchierarne insieme e a proposito dei vostri messaggi io devo ringraziare Joel Breyer o Breyer che mi ha mandato una foto di cosa fa mentre ascolta scientificast e stava accendendo una stufa a legna quindi invece su telegram l'altro giorno c'era un commento di una persona puntata scorsa parlavo di super computer che stava guidando probabilmente mattina molto presto diceva sì che effettivamente era un argomento leggermente difficile da sostenere però ho apprezzato lo stesso molto bene vediamo cosa dirà del tempo che arrotolerà i neuroni di più di una persona secondo me il discorso sul tempo vabbè per forza perché come insomma ormai l'ho detto tante volte non ci si capisce quindi insomma studiate fisica se avete qualche buona idea portatela perché è quello proprio un argomento sul quale ancora c'è tanto da imparare detto questo ci vediamo ci sentiamo al prossimo episodio io credo che comparirò dopo Natale quindi ne approfitto per fare i miei personalissimi auguri di Natale agli ascoltatori poi magari saranno anche altre occasioni prima della pausa natalizia però nel dubbio buon Natale e al prossimo episodio e anch'io buon Natale e ci sentiamo ciao 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 ciao